Il mondo degli scacchi ha un nuovo campione del mondo, non voglio fare nessun tipo di spoiler, quindi passiamo subito all'analisi di questa partita. Ding Liren sfida con il bianco Gukesh D, questa è la quattordicesima e ultima partita di questo match. Ding Liren inizia da cavallo F3. Gukesh occupa il centro spingendo in D5, Ding prepara lo sviluppo dell'alfiere in fianchetto e a questo punto gioca a pedone D4. La cosa curiosa è che stiamo giocando in sostanza una difesa Grunfeld a colori invertiti dove il bianco ha un tempo di più. Giusto per farvi capire, la difesa Grunfeld è questa qua, dove il nero in pratica gioca a pedone G6 e dopo cavallo C3 spinge in D5. Qua noi abbiamo ottenuto la stessa identica posizione dove però il bianco ha già sviluppato l'alfiere in fianchetto. Il nero potrebbe cercare di occupare il centro catturando in D4 e poi spingendo in D5 ma dopo pedone C4 il bianco ha un forte gioco contro il centro del nero. In pratica staremo giocando la variante principale della Grunfeld in cui il bianco si ritrova con un tempo di vantaggio. Quindi Gukesh dopo pedone D4 decide di proseguire con pedone D6, molto tranquillo consolidando il proprio centro. A questo punto Ding prosegue con arrocco corto, Gukesh prosegue catturando in D4 e ora la mossa nettamente più giocate al fiere C5 continuando lo sviluppo e attaccando il cavallo in D4 del bianco. Gukesh però tira fuori un'idea, una mossa piuttosto rara, cavallo G7. L'idea del nero è catturare in D4, scambiare una coppia di cavalli, attrarre la donna del bianco al centro della scacchiera e poi portare l'altro cavallo in C6 attaccando la donna del bianco che dovrà tornare a muoversi. Se a questo punto Ding prosegue con C4 questo è un sacrificio di pedone tipico quando abbiamo l'alfiere in fianchetto nella catalana, nell'inglese, nella reti ci sono un sacco di posizioni in cui il bianco sacrifica questo pedone per ottenere qualcosa in cambio. In questo caso su D per C4 il bianco può giocare cavallo B5 e il cavallo del bianco sta già saltando in D6. Tra l'altro se la donna del nero dovesse spostarsi da D8 anche cavallo C7 con attacco doppio sarebbe una minaccia molto importante. Ad esempio dopo donna per D1, torre per D1, cavallo C7 che tra l'altro ora arriverebbe con matto non può più essere fermata. Su cavallo D5 eliminiamo il difensore di C7 poi arriva l'attacco doppio. Di conseguenza il nero qua potrebbe tentare di giocare subito cavallo D5 senza cambiare le donne ma ancora una volta eliminiamo il cavallo centrale e qui dobbiamo stare solo un attimino attenti. Abbiamo una mossa che potrebbe sembrare geniale ma in realtà non lo è affatto. Parlo di donna per D5. L'idea è che se il nero accetta il sacrificio di donna noi con un attacco triplo andiamo immediatamente a recuperare la donna appena sacrificata ottenendo un'ottima posizione. Il nero però non è obbligato a catturare in D5 può anche giocare alfiere 6 proseguendo lo sviluppo e in questa posizione a pedoni pari non abbiamo ottenuto nulla di particolare. Dobbiamo cambiare le donne in D8 e anche se possiamo fare questo attacco doppio mangiando l'alfiere campo chiaro del nero ricordiamoci che anche noi abbiamo dato il nostro alfiere campo chiaro. Quindi è una posizione dove i pezzi sono pari abbiamo lo stesso tipo di pezzi ma per assurdo il nero ha più spazio e soprattutto ha re più centralizzato che nei finali può sempre tornare utile. Ha il controllo della colonna D e quindi qui se c'è un giocatore che sta un pochino peggio è il bianco. Dobbiamo stare un attimino attenti al posto di giocare donna per D5 alfiere F4 decide la partita cavallo C7 non si può più fermare. Tornando alla partita Gukesh non ha catturato in C4 ma ha mangiato il cavallo in D4 proseguendo con la sua idea di attaccare la donna del bianco. Ding la ritira in D1 e a questo punto Gukesh prende spazio con pedone D4. Il bianco non può stare fermo a guardare deve assolutamente reagire al centro e cercare in un qualche modo di eliminare il pedone che concede spazio al nero. Adesso su D per E3 alfiere per E3 il bianco riuscirebbe a trovare uno sviluppo molto armonioso. Quindi Gukesh in partita prosegue con alfiere C5. L'idea è sviluppare un pezzo, rinforzare D4 così in caso di cattura un pezzo del nero potrà occupare una forte casa centrale e in caso di non cattura dopo D per E3 alfiere per E3 e lo scambio degli alfieri il bianco si ritroverebbe con un pedone isolato sulla colonna E. Quindi qui Ding decide di catturare in D4 e ora bisogna stare attenti. La mossa naturale cavallo per D4 in questo caso non va affatto bene. Il bianco può reagire con la brillante B4. Sacrifichiamo un pedone, il nero non lo può mangiare perché su alfiere per B4 l'alfiere rimarrebbe indifeso e il bianco ne può approfittare dando questo scacco. Il nero può ancora difendere l'alfiere ritirando il cavallo ma qua basta eliminare il difensore e dopo donna per B4 il bianco rimarrebbe con un pezzo di vantaggio. Quindi qui il nero non deve giocare cavallo per D4. Piccola parentesi dopo B4 il nero può non catturare il pedone ma a questo punto se l'alfiere si ritira il bianco riesce a svilupparsi molto agevolmente attivando gli alfieri su queste forti diagonali. Quindi in partita Gucash va a catturare in D4 di alfiere e a questo punto Ding prosegue lo sviluppo con cavallo C3. Il nero qui potrebbe avere l'occasione di doppiare i pedoni del bianco sulla colonna C ma questo sarebbe un errore strategico perché allo stesso tempo il nero perde il suo forte alfiere camposcuro e il bianco rimane in una posizione completamente aperta con la coppia degli alfieri. L'alfiere sta per arrivare in A3 a quel punto il nero non riuscirebbe neanche ad arroccare e in generale in una posizione dove ad esempio cambiamo le donne e il nero tranquillamente arrocca possiamo giocare torre B1 e completare lo sviluppo per il nero non è affatto facile. Il pedone in B7 sarà sempre un target d'attacco per i pezzi bianchi di conseguenza Gucash in partita non ha catturato in C3 ma ha proseguito lo sviluppo con arrocco. Ora Ding vorrebbe tanto sviluppare l'alfiere in fianchetto ma al momento ciò non è possibile per via del cavallo in C3 che rimarrebbe sott'attacco. Quindi qui Ding prima sposta il cavallo da C3 e attacca l'alfiere in D4. Una volta che Gucash ritira l'alfiere in partita andata alfiere B6 possiamo proseguire con B3 e l'alfiere si sviluppa tranquillamente in B2. La domanda spontanea potrebbe essere cosa succede se il nero ritira l'alfiere in F6? Beh a questo punto il bianco potrebbe giocare alfiere F4 e il nero ha problemi sulla casa in C7 e la casa in D6. Non dobbiamo preoccuparci del pedone in B2 ad esempio su alfiere per B2 possiamo attaccare l'alfiere, il nero può anche cambiare le donne e poco importa quando l'alfiere si ritira. Sia cavallo C7 sia alfiere D6 vincono la partita ad esempio dopo alfiere D7 attacchiamo la torre in F8 e ora la torre in A8 già non ha case. Su cavallo in C7 ha solo la casa in B8 ma noi possiamo prima giocare alfiere per C6 aprendo la colonna B e ora abbiamo eliminato con la nostra torre la via di fuga in B8. Quindi il nero perde semplicemente una torre. In partita quindi Gucash gioca alfiere B6. Ding prosegue il suo sviluppo con B3, a questo punto il cavallo del bianco viene ricacciato indietro, l'alfiere torna nella forte casa centrale in D4, alfiere B2 e ora pedone 5. Nero cerca di consolidare la sua posizione al centro della scacchiera. Ding prosegue con donna D2, Gucash continua con alfiere 6, entrambi i giocatori proseguono il proprio sviluppo e ora Ding va a piantare un fortissimo cavallo in D5. Gucash deve reagire e lo fa spingendo in B5 cercando di togliere stabilità a questo forte cavallo centrale. Ora Ding ha un momento per cercare un piccolo vantaggio. La mossa più forte è alfiere per D4, cambiamo l'alfiere centrale e poi andiamo a giocare F4 cercando di destabilizzare questi pezzi del nero. Nero potrebbe contraattaccare su C4 ad esempio giocando torre C8 ma una volta difeso il pedone C. La situazione per il nero non è affatto semplice da gestire, in partita però dopo pedone B5 Ding Liren ha catturato in B5 lasciando il cavallo in presa ma contraattaccando il cavallo in C6. Gucash continua mangiando in B5 e a questo punto l'idea di Ding era giocare cavallo F4 semplificando molto la posizione ed evitando di prendersi particolari rischi. Il cavallo in presa è vero ma lo è anche il cavallo in C6. Gucash decide di catturare in F4, la partita prosegue con alfiere per C6, attacchiamo la torre in A8 ma ora Gucash può giocare alfiere per B2, la donna in presa quindi non facciamo in tempo a catturare in A8. Dobbiamo mangiare in B2, la torre sotto attacco si sposta semplicemente in B8 difendendo il pedone in B5 e ora Ding può sviluppare la torre attaccando la donna del nero. Donna B6 l'alfiere sotto attacco viene ritirato in F3, cambiamo un pedone in G3 e a questo punto Ding ha un 2 contro 1. Se il bianco riesce a crearsi ad esempio un pedone sulla colonna A passato sostenuto anche da questo alfiere il nero potrebbe trovarsi nei guai quindi qui è importantissimo giocare B4 andando a fissare la struttura pedonale del bianco. Il bianco è vero può spingere lo stesso in A4 come è successo in partita ma dopo la cattura in passante questo pedone in B3 passato è molto molto difficile da spingere perché il nero ha un ottimo controllo sulla colonna B. Piccola parentesi il pedone non può essere catturato immediatamente per torre B1 e il nero semplicemente perde un pezzo e dopo pedone G6 Ding decide di sacrificare il pedone in B3 non riuscendo a trovare un modo per spingere questo pedone. Gioca quindi donna D4 a questo punto Gukesh potrebbe catturare in D4 ed entrare in questo finale con un pedone di più ma oggettivamente parliamo di un finale pari quindi Gukesh cerca di mantenere le donne sulla scacchiera con donna B5 ma Ding insiste gioca pedone B4 ora il pedone inizia ad essere spinto quindi il nero lo deve eliminare e adesso entriamo lo stesso in un finale molto simile a quello che vi ho mostrato poco fa. Cambiamo la torre sull'ottava traversa e dopo alfiere per 8 abbiamo un 3 pedoni contro 2. Un finale di torri qua sarebbe facilissimo da difendere con gli alfieri in gioco magari il nero ha qualche piccola chance in più ma gioco corretto questo è un finale che il nero non riesce a vincere. Vediamo cosa è successo da qui in poi Gukesh cerca di prendere spazio avanzando il proprio pedone in G5 adesso il bianco cerca il cambio degli alfieri Gukesh rifiuta gentilmente e ora bisogna solo trovare un modo per il nero di migliorare il più possibile la propria posizione cercando di mettere in difficoltà il bianco. Qual bianco fa pressione su F7 bisogna difendere il pedone con alfiere G6 e se c'è un modo di vincere questa posizione è migliorando piano piano tutti i propri pezzi. Quindi qui giochiamo torre scacco la torre attiva sulla prima traversa Gukesh può giocare anche mosse neutre può permetterselo magari per avvicinarsi sempre di più alla mossa numero 40 per ottenere un ulteriore bonus di tempo. La partita prosegue così pedone H5 Gukesh cerca di avanzare anche con il proprio pedone il re avanzerà in H6 successivamente possiamo spingere in G4 il re è pronto ad avanzare anche in G5 e piano piano Gukesh sta migliorando la propria posizione. Ovviamente qui è comunque tutto molto pari Ding cerca di scambiare un pedone è sempre una buona tecnica scambiare pedoni quando ci si sta difendendo in un finale del genere perché se i pedoni finiscono la partita finisce in parità. H per G4 quindi questo pedone serve sulla scacchiera per impedire al bianco tutti i vari scacchi sulla quinta traversa con la torre la partita è proseguita per un certo numero di mosse fino a quando Ding Li Ren ad un certo punto clamorosamente gioca torre F2 semplificando in un finale di pedoni perso. Dopo torre per F2 re per F2 Gukesh può giocare alfiere D5 e l'alfierina 8 non può sfuggire allo scambio bisogna catturare in D5 ma dopo R3 R5 il nero prende l'opposizione frontale e vince la partita. Ding Li Ren abbandona e Gukesh diventa il più giovane campione del mondo di tutti i tempi. Adesso analizziamo anche questo finale per capire il motivo per cui il bianco qui perde non mi è chiaro se Ding ha mancato alfiere D5 oppure ha pensato che questo finale fosse difendibile sicuramente lo stress ha giocato un ruolo fondamentale. Fatto sta che qua dopo R3 il nero può spingere in F4 e una volta che si viene a creare il pedone G passato al nero basta portare il proprio re in H2 da cui supporterà l'avanzata del pedone verso la promozione in ogni suo passo e per il bianco non ci sarà nulla da fare. Ovviamente anche andare in F2 porterebbe alla vittoria ma il bianco ce lo impedisce quindi dobbiamo per forza andare in H2 e la promozione non può più essere fermata. Se al posto di re D3 il bianco dovesse giocare re 2 continuiamo a prendere l'opposizione frontale questo è un tema molto importante nei finali di pedone i due re si stanno guardando ma toccando al bianco il re bianco deve prendere una decisione andare a destra ma in questo caso il re del nero si infiltra a sinistra oppure andare a sinistra ma in questo caso il re del nero si infiltra a destra. Quindi è una situazione di Zugzwang dove qualsiasi mossa porta alla sconfitta in questo caso dopo re F2 il re del nero piano piano può avanzare fino a quando una volta che il re nero ha contatto con il pedone in G3 possiamo giocare re F2 e nuovamente con la mossa al bianco catturiamo il pedone in G3 e vinciamo la partita. Un'altra possibilità all'inizio potrebbe essere giocare re F2 ma in questo caso prendiamo quella che si chiama opposizione diagonale a questo punto il bianco deve andare per esempio in E2 e rientriamo esattamente nella posizione che abbiamo analizzato nella variante di prima in cui il bianco perde il pedone in G3 e perde di conseguenza la partita.